Così, c'è una donna che vorrebbe la luna per le sue portate Ed è lei la mia giacca che fa un freddo cane E lì, c'è una coppia che balla tipo un terzo piano Tra un filo di voce e un filo spinato Eccoli qua, con i fiori presi in piazza e poi in mano Eccoli qua, proprio nel mio tempo E adesso il sangue c'è C'è una donna che vorrebbe il vinto Eccoli qua, stasera gioco in casa Stasera gioco in casa Volevamo ripartire, volevamo ripartire Io ho appena saputo che il 15 di giugno si sarebbero riaperti i teatri, i cinema Chiamato subito Direttore, facciamo un concerto? Ma no, guarda, ma sai, sono duecento per... Facciamolo! Facciamolo, perché è un bel segnale Per noi, per il mondo della musica, per il mondo... Per il Bologna, cioè per il teatro di Bologna Per tutti Perché la gente, secondo me, ha voglia di... Ha voglia di stare ancora insieme agli altri Di ascoltare la musica, di andare al cinema, di andare al teatro Così come voglio andare al ristorante Ha voglia di abbracciare Ha voglia di... Vabbè, adesso vi sto parlando addosso Perché forse mi emoziono Però mi fa piacere essere qui Mi piacere anche vedervi E il rito che suona Sua moglie fa il coro Giovanni come sempre ascolta Sto andando con me Canzoni d'amore Che fanno ancora bene al cuore Non è stanchi Ma potenti Se chiudi gli occhi Forse tu ci senti Anche da lì